Mirage è una delle aziende storiche del compressore italiano di produzione della ceramica e che rappresenta indubbiamente quello che è l'elite qualitativa dal punto di vista della produzione del grasporcellanato. Grasporcellanato che oggi rappresenta quasi la totalità del mercato della ceramica che parte dall'Italia verso i mercati internazionali. Questo perché oggi parliamo di un porcellanato, di una pavimentazione, di un rivestimento che ha le caratteristiche e le qualità tecniche che lo rendono sicuramente il prodotto più moderno dal punto di vista sia delle performance, delle potenzialità dal punto di vista dell'utilizzo e dell'estetica e pertanto esistono oggi delle aziende che si sono specializzate soprattutto in questo comparto e Mirage rappresenta sicuramente il fiore all'occhiello della produzione italiana. Questo anche perché dal 74 Mirage è stata tra le prime aziende, se non la prima addirittura, a produrre il grasporcellanato e sul grasporcellanato ha costruito tutta la sua storia, storia che si basa non solo sulla qualità tecnica del prodotto ma anche e soprattutto sulle potenzialità di applicazione del prodotto stesso che oggi è quello che fa la differenza sul mercato. Acquisire questa esperienza nel tempo e saperla rendere a disposizione, portare a disposizione di quella che è la clientela o soprattutto nel mondo del progetto, oggi è la differenza che rende Mirage indiscutibilmente uno dei leader sul mercato a livello internazionale nel grasporcellanato. La produzione nello specifico di Mirage punta a un posizionamento che è prettamente tecnico, professionale. Noi siamo l'azienda che risponde a quelle che sono le esigenze per la pavimentazione nella grande distribuzione, nel grande centro commerciale, negli spazi dove si necessita di una resistenza, una capacità e delle performance soprattutto di prodotto indiscutibili e proprio per questo Mirage è da sempre l'azienda che ricopre un ruolo dominante su questo tipo di mercato. A questo si aggiunge che oggi grazie alle nuove tecnologie che l'industria ceramica ha a disposizione se riesce oltretutto a ottenere delle qualità e delle caratteristiche dal punto di vista estetico che mettono sicuramente in comparazione il prodotto di fabbrica, il prodotto che arriva da un'azienda ceramica con quelli che possono essere le estetiche e i pregi di pietre naturali piuttosto che i materiali di simulazione dei pavimenti di legno e quant'altro, oltre a riferimenti particolari e innovativi dal punto di vista del design. Perché è uno spazio a Milano? Spazio a Milano perché Milano rappresenta sicuramente la città dell'architettura in Italia, noi sappiamo che le capitali dell'architettura in Europa sono Londra, Parigi e indiscutibilmente anche Milano e pertanto ritenevamo che fosse dal nostro punto di vista necessario avere uno spazio in cui incontrare gli architetti, condividere con loro quelle che sono le nostre proposte, le nostre nuove soluzioni per la pavimentazione per il vestimento degli edifici, gli spazi commerciali, di progetti particolari per aiutarli nella ricerca del prodotto giusto e per eventualmente anche grazie al loro contributo avere informazioni o notizie che ci possono essere utili per produrre successivamente prodotti o soluzioni che rispondano a esigenze sempre più specifiche da parte di una determinata categoria che per noi diventano gli influenzatori dal punto di vista del sviluppo dei nuovi edifici dell'abitare moderno. Oltretutto è uno spazio conviviale dove possiamo condividere anche momenti culturali, organizzeremo degli incontri, dei meeting anche di carattere artistico magari dalla mostra fotografica piuttosto che all'esposizione di artisti o giovani artisti oltre alla presentazione di materiali innovativi non solo nostri ma anche magari per aziende che in qualche modo collaborano direttamente o indirettamente con Mirage.